Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sarà la ventiquattresima volta che rifaccio questo video? Ci sono sempre problemi tecnici. Allora, in questo video parliamo, vi faccio vedere come riesco a fare una ricarica con i soldi guadagnati, in realtà sono punti, attraverso dei siti che praticamente ti fanno fare dei sondaggi. Uno di questi è proprio offline. Raramente, diciamo, ricevi dei sondaggi via email e ti assegnano dei punti. Questi punti poi malmano si accumulano e puoi richiedere, come puoi vedere, dei buoni tipo delle ricariche, delle donazioni, fino ad arrivare a un buono Amazon di 15€. Ora, quello che ci interessa a noi è la ricarica poste mobile di 10€. Perché domani si rinnova la promozione, quindi facciamo questa ricarica. Selezioniamo quindi il premio, è fare la richiesta del premio. Ci viene chiesta conferma della richiesta, perché comunque verranno scalati 70 punti, quindi 70 punti 10€ che valgono. E mi resteranno ancora abbastanza punti, che tra non molto potrò fare una seconda ricarica. Ecco, mi è arrivato quindi tramite email, registrato al sito, il codice da utilizzare per la ricarica. Quindi è sufficiente questo codice, che equivale per noi a 10€ di credito telefonico. Nel mio caso è poste mobile, quindi adesso aspettate che passo al telefono. Eccoci qui al telefono. Per poste mobile il numero che dobbiamo comporre è il 160. Quindi facciamo chiama. Ho detto l'altoparlante, anche se nel video finale non sentirete quello che dice. Comunque tramite la tastiera, fra poco potremo navigare. Ecco qui, all'interno della voce guidata. Dobbiamo fare quindi 1, per avere informazioni sul credito, sulle promozioni attive e effettuare una ricarica con il sistema. Seguiremo quindi la voce guidata, fino al momento in cui ci chiederà di inserire il codice che ci è stato inviato via email. Quindi procediamo poi a digitare questo codice. La voce ci confermerà il nostro numero sul quale effettueremo la ricarica. Validerà che si tratta di una ricarica di 10€. E completate questa operazione, dopo un... Solitamente molto veloce, comunque massimo in qualche minuto, riceverete un sms di conferma dell'avvenuta ricarica. That's all.